Signor Presidente della Repubblica, Signora Presidente della Camera, Autorità, cari amici della Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, Stefanini, Giovannini, credo che oggi sia un'occasione importante perché consente a tutti noi di discutere al tempo stesso guardando al futuro la ragazza di Mattotti che guarda al futuro di cui avete fatto il marchio del vostro festival ma di farlo se possibile anche agganciati alla realtà, agli impegni, ai doveri delle istituzioni nazionali e locali che sono qui rappresentati, del mondo delle imprese, dell'università, di tutti gli stakeholders che Giovannini ha poco fa citato. Pensavo al fatto che sono, controllato su Google, sono esattamente 25 anni da quella, e forse qualcuno dei presenti vi ha partecipato ma non voglio fare nomi, 25 anni da quella conferenza di Rio che si svolse nella prima decade di giugno del 92 e che fu in fondo la grande occasione internazionale per cominciare a dare cittadinanza al concetto di sviluppo sostenibile. Non fu un enorme successo diplomatico ma fu uno straordinario evento dal punto di vista politico internazionale, multilaterale, dal punto di vista dei messaggi globali. Erano gli anni nei quali cominciavano a maturare poi i Millennium Goals, i grandi obiettivi che le Nazioni Unite e la comunità internazionale si sono date al passaggio dal secondo al terzo millennio. Erano anni nei quali uno dei nostri amici di allora, Alex Langer, lo voglio ricordare, diceva che ogni nostro comportamento per essere equo dovrebbe essere moltiplicabile per 5 miliardi. Adesso i miliardi sono diventati 7 ma il messaggio era un messaggio di un quarto di secolo fa acquisizione di questa dimensione globale da parte di una parte almeno delle persone più sensibili, più avanzate nei nostri mondi. C'è sempre stata un po' di diffidenza nei confronti di questi percorsi onusiani, lo sviluppo sostenibile, i Millennium Goals, un po' di sufficienza. Poi se andiamo a vedere i risultati che sono stati raggiunti, parlo di quella fase, dei obiettivi indicati, allora ci rendiamo conto che sono stati raggiunti dei risultati molto rilevanti. Più di un miliardo di persone uscite dalla povertà, diffusione di acqua, contrasto alle malattie, educazione, crescita di ruolo e di potere delle donne in molte delle società dei paesi tra virgolette più arretrati. Credo che questi risultati, che vengono da un periodo che, guardandolo adesso, questo periodo degli anni 90 di cui sto parlando, potremmo quasi vederlo come una specie di seconda belle époque del secolo scorso. La belle époque normalmente è quella dei primi dieci anni del Novecento, ma in fondo anche gli ultimi dieci anni del Novecento sono stati, in una certa misura, una belle époque. Insomma, sappiamo tutti. Era un momento di grande ottimismo, che è bruscamente interrotto forse dagli attentati di New York, e poi dalla crisi, e poi da tanti altri processi che sono venuti avanti. Però credo che oggi che molto si parla, e giustamente, dei difetti della globalizzazione, dei limiti della globalizzazione, dei perdenti della globalizzazione, in cui è tornato di moda quel concetto di Forgotten Man, che adesso è utilizzato molto spesso da una certa parte politica, ma che è un concetto che inventò Roosevelt durante la grande crisi, negli anni 30. E figurarsi se non è giusto sottolineare i ritardi, le difficoltà, i difetti di questo processo, però credo che è proprio in questo momento sia fondamentale ricordare anche i risultati che sono stati raggiunti in queste strategie. Non possiamo far fare ad altri Paesi la parte di chi difende gli aspetti positivi dei processi globali. Dobbiamo, proprio nel momento in cui ne vediamo i limiti, e cerchiamo di correggere gli errori, dobbiamo vederne anche noi i successi e i vantaggi. Perché le coscienze dell'Occidente maturo non possono essere insensibili al fatto che centinaia e centinaia di milioni di persone in Asia, in America Latina, sono uscite da una condizione di povertà e di malattia. Se noi restiamo insensibili a queste dinamiche, imbocchiamo una strada che non so dove ci porterà. Quindi, certo, attenzione alle cose da correggere, ai limiti, ma anche consapevolezza dei risultati che sono stati raggiunti. Proprio sulla base dei risultati raggiunti e anche dei fallimenti, perché non sono mancati anche i fallimenti, delle strategie globali della fine del secolo scorso e quindi dei Millennium Goals, è maturata nel corso degli ultimi anni l'Agenda 2030, l'Agenda per lo sviluppo sostenibile, l'Agenda che ha al centro quella integrazione di diversi sforzi nei 17 obiettivi di cui si è parlato nel corso del Festival della Sostenibilità. Oggi la base è il fatto che la sostenibilità è un concetto almeno sul piano formale universalmente condiviso, non era così un quarto di secolo fa, ma contemporaneamente il contesto internazionale in cui ci muoviamo ha delle caratteristiche per usare un eufemismo più complesse di quelle di alcuni decenni fa. Quindi è maturata la consapevolezza, veniva ricordato più qui in tanti mondi, non solo in Italia, ma contemporaneamente viviamo in un mondo in cui il rischio è che la globalizzazione venga messa in questione non per i suoi errori, per i suoi difetti e per le cose che vanno combattute e corrette, ma venga messa in discussione in quanto tale. Il multilateralismo, il ruolo delle Nazioni Unite, la collaborazione tra i diversi Paesi non sono più merci che si vendono a buon mercato nel contesto internazionale di oggi. e noi italiani che abbiamo giustamente negli ultimi decenni con forza riscoperto anche il valore dell'idea di patria conosciamo credo molto bene il confine che esiste e che deve esistere tra patriottismo e nazionalismo, tra difesa degli interessi nazionali e contrapposizione tra interessi nazionali e interessi del tuo vicino, dei Paesi che ti stanno attorno. Questo clima internazionale rende le sfide della sostenibilità più impegnative, più difficili, ma anche credo più importanti. Anche perché il mondo per certi versi è in bilico sul terreno dello sviluppo sostenibile affatto lo ricordavo prima dei grandi passi in avanti ma è in una condizione sospesa in particolare in quel continente l'Africa dal quale dipende gran parte del nostro futuro e forse del futuro più in generale dell'umanità se consideriamo che presto l'Africa supererà i due miliardi di abitanti. l'Africa l'anno scorso ha avuto un ritmo di crescita europeo 1.4% pur conservando ovviamente ritmi di crescita demografica africana il che vuol dire molto banalmente che il reddito pro capite per la prima volta da molti anni in Africa l'anno scorso nella media e poi sappiamo che queste medie raccontano poco la verità della realtà di questi paesi ma nella media è diminuito il che vuol dire che una grande speranza che in questi anni finalmente si è manifestata e cioè che il continente dimenticato potesse essere una nuova frontiera di sviluppo oggi è di nuovo in bilico sappiamo che questo dipende in parte dal corso dei prezzi del petrolio per alcuni grandi giganti africani in parte dipende anche dalla siccità e sappiamo che la siccità non è solo un problema come era magari qualche decennio fa lo dico alle eventuali coscienze insensibili che ci fossero non in questa sala ma che certamente ci possono essere non è solo un problema di fame nel mondo è un problema di mobilità umana la siccità può contribuire al fenomeno dei rifugiati climatici spostando ulteriormente centinaia di migliaia di persone nel continente africano e sappiamo che questi enormi spostamenti poi producono degli effetti che ci riguardano direttamente anche come Europa quindi un quadro per certi versi contraddittorio in cui si sono raggiunti dei risultati importanti questi risultati sono stati la base della delineazione di una strategia la strategia dell'agenda 2030 che è certamente molto più complessa e avanzata dal punto di vista della comunità internazionale ma contemporaneamente questa strategia fa i conti con un contesto internazionale complicato ne siamo stati credo testimoni anche come paese presidente di turno del G7 nella occasione del vertice di Taormina nel quale sì certamente come ricordava prima Giovannini sono state ribadite nei documenti ufficiali parole importanti per la quale l'Italia e altri paesi sono battuti sull'agenda 2030 sulla roadmap per l'empowerment femminile sull'action plan per l'innovazione e il lavoro ma contemporaneamente sulla trincea che oggi è la trincea più esposta sulle questioni ambientali globali cioè la trincea del clima c'è stata una divisione tra sei paesi da una parte e gli Stati Uniti dall'altra e io rivendico il fatto che da parte nostra italiana e lo abbiamo fatto in particolare dopo la decisione annunciata dal presidente Trump insieme ai nostri amici francesi e tedeschi si sia presa una posizione che non è soltanto una posizione di conferma ci mancherebbe degli accordi di Parigi e degli impegni che alla fine del 2015 a Parigi abbiamo sottoscritto ma è anche una posizione importante perché sottolinea l'impegno a non rinegoziare quegli accordi attenzione perché questa sarà la discussione e la sfida delle prossime settimane e dei prossimi mesi non tanto stiamo o non stiamo agli impegni di Parigi quanto stiamo o non stiamo agli impegni sul Green Fund che è lo strumento finanziario che consente ai paesi tra virgolette meno avanzati di promuovere le loro azioni di contenimento dell'impatto ambientale sul clima e Italia Francia e Germania hanno detto non solo che noi stiamo agli accordi e agli impegni presi ma che siamo contrari a rinegoziare quegli accordi e quegli impegni e questo concetto io voglio ribadire qui anche in una settimana che si concluderà poi a Bologna con il G7 dell'ambiente l'Italia voglio dire in conclusione farà la sua parte nel delineare nelle prossime settimane nell'assumere nelle prossime settimane a livello di governo la nostra strategia per lo sviluppo sostenibile in questo io credo che il contributo del lavoro che è stato fatto in queste settimane dalla dall'Alleanza e dal vostro festival è un contributo straordinario perché non è che viviamo in tempi in cui la partecipazione politica e culturale sia un bene diffusissimo o meglio bisogna prenderla nel suo verso perché poi siamo pieni di esempi che ci fanno vedere come se c'è un contenuto se c'è un'idea se c'è un obiettivo la sollecitazione della partecipazione politica e culturale trova riscontro e i numeri che prima voi citavate lo conferma però io qui vi voglio ringraziare pubblicamente a nome del governo e del paese perché avete dato un contributo non solo di c'è una piattaforma e quante piattaforme riceve il governo ve lo immaginate ma c'è un processo un dialogo un'interlocuzione un coinvolgimento dei diversi soggetti questo aiuta la strategia che il governo è chiamato poi a mettere in campo e lo fa su un tema che è assolutamente al centro degli interessi dei nostri concittadini vedevo qualcuno che si stupiva quando Giovannini ha mostrato quella cartello numero 27 di Demos con il ranking delle principali preoccupazioni degli italiani c'è il primo posto l'ambiente ma basta chiederlo cioè nei sondaggi spesso si fanno domande chiuse nelle quali magari non compare questo tipo di domanda se la domanda compare in molti casi l'interpellato rispose e questo ci dimostra quel sondaggio quindi il tema è sentito noi adotteremo il documento sulla nostra strategia per l'agenda 2030 come diceva Giovannini nelle prossime settimane daremo poi anche alla luce delle decisioni europee con una direttiva del presidente del consiglio degli obiettivi particolari a ciascun ministero assumeremo direttamente a Palazzo Chigi come chiedeva chiedeva insomma come segnalava fosse opportuno prima Giovannini il coordinamento di questo lavoro non perché l'impegno sviluppato fin qui dal ministero dell'ambiente e dal ministero dell'economia nelle loro rispettive competenze non sia stato positivo anzi è stato un impegno di cui li voglio apertamente pubblicamente ringraziare ma perché è giusto che se questo è un obiettivo paese che richiede un'integrazione di interventi a più livelli è giusto che il coordinamento sia a livello della presidenza del consiglio e faremo anche non solo una regia ma cercheremo anche di a Palazzo Chigi gestire il rendiconto dell'attuazione di questi obiettivi dandoci una scadenza annuale che mi auguro non faccio alla fine di altre scadenze annuali ma comunque ogni anno nel mese di febbraio di una relazione di rendiconto di come va lo stato di attuazione dei diversi obiettivi dei diversi ministeri nella strategia per l'agenda 2030 il concetto e su questo lasciatemi concludere il concetto che deve animarci io credo è quello appunto 25 anni dopo la conferenza di Rio di tenere assieme quella che è una sensibilità culturale una preoccupazione per le sorti del pianeta una disponibilità all'impegno personale o alla militanza politico associativa sui temi ambientali con un interesse economico allo sviluppo del nostro paese perché è l'ora di avere consapevolezza che su questi temi si gioca una delle carte fondamentali della competitività italiana a livello globale l'Italia è un paese che può essere forte e competitivo qui non si gioca solo la sorte del pianeta si gioca anche un pezzo del nostro futuro del nostro sviluppo delle nostre imprese del benessere dei nostri concittadini abbiamo molto lavoro da fare non partiamo da zero perché in questi anni abbiamo lavorato per avere più Africa nella nostra cooperazione internazionale nella nostra politica estera abbiamo lavorato per avere più rinnovabili nella nostra strategia energetica nazionale che comunque è all'attenzione del Parlamento abbiamo lavorato anche se forse non abbastanza per dare alla Green Economy il ruolo che deve avere nella competizione internazionale e che è una delle ragioni poi poche storie del fatto che l'Europa non solo per buona volontà è così interessata alla conferma degli accordi di Parigi perché noi riteniamo che le nostre imprese italiane ed europee possano essere all'avanguardia dei processi di contenimento dell'impatto ambientale siamo a lavoro sui temi delle periferie urbane sui temi della povertà ritardi ma anche impegni che il Governo sta cercando di portare avanti e di mettere al centro della propria agenda quindi l'Italia può essere in prima fila e il Governo vi può assicurare che farà tutto quanto è nel suo potere perché questo ruolo italiano in prima fila possa dispiegarsi nei prossimi mesi nel nome dello sviluppo sostenibile e dell'agenda 2030 grazie e buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti